Abbiamo visto i risultati del lavoro che abbiamo fatto, vi ringraziamo tutti qui dentro per quello che avete fatto in questi anni. Sì, sì, grazie, grazie, sì, sì, ci pensa, sì, 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 ma abbiamo visto i risultati nei numeri, onorevole Maggi, delle politiche che avete portato avanti in questi anni. No, no, ma guardi, non vi preoccupate, abbiamo visto i risultati in questi anni del lavoro che avete fatto e forse lei dovrebbe guardare a questi ragazzi che sono in questa sala e avere rispetto di quello che la vostra propaganda ha fatto sulla pelle di queste persone, di queste famiglie. Lei dovrebbe ricordarsi che è grazie alle politiche che avete fatto se siamo ridotti così. Le 8 e 2 minuti, buongiorno, buona domenica, benvenuti a Omnibus. Le immagini che vi abbiamo appena mostrato si riferiscono a un scambio di vedute, se lo vogliamo così definire, all'inizio della settimana. Non se ne è parlato tantissimo nei termini dei contenuti, quanto piuttosto lo scandalo sui giornali, se di scandalo vogliamo parlare, è stato relegato ai toni usati dalla Premier Meloni. Eppure la questione della droga è ancora una questione, diciamo così, che non è affatto risolta nel nostro Paese. Probabilmente ricorderete che l'anno scorso ci fu il tentativo di un referendum per legalizzare, non liberalizzare, legalizzare alcune procedure legate alla produzione e coltivazione, ma non si arrivò nemmeno al referendum perché la Corte Costituzionale decise di bocciare per l'appunto quei referendum. E oggi chi sfoglia i giornali, per esempio, può leggere in merito al delitto di Prima Valle a Roma, titoli come quello per esempio che fa il messaggero, avevo fumato hashish, il killer di Michel, parla quattro ore senza pentirsi. Quindi la questione in realtà torna di attualità ma lo fa sempre, lontano appunto da un ragionamento, da un dibattito politico per essere relegata alla cronaca. E allora noi questa mattina abbiamo deciso di ritornarci per capire di che cosa stiamo parlando. Affronteremo poi anche nella seconda parte quello che sta invece succedendo in Francia, ma perché vedrete in realtà sempre di ragazzi, stiamo parlando, l'età media di quelli che sono stati arrestati in questi giorni in Francia è di 17 anni. 17 anni avevano anche i due protagonisti di questo delitto a Prima Valle, quindi di ragazzi, di disagio, ma non solo. Ci occuperemo questa mattina. Però iniziamo subito, intanto salutando Riccardo Maggi, onorevole di più Europa, buongiorno, grazie dell'invito, che era per l'appunto protagonista della vicenda che vi abbiamo appena mostrato. E poi anche Daniele Saponaro, buongiorno, benvenuto. Lei faceva parte del comitato No Cannabis Legale e fra l'altro ha scritto anche questo pamflet, Gioventù Drogata, il pericolo di liberalizzare le droghe, l'aveva fatto proprio in quell'occasione. Mentre sono invece collegati con noi l'ex ministra per le politiche giovanili del Movimento 5 Stelle Fabiana Dadone, buongiorno Dadone, ben ritrovata. Buongiorno, grazie. Buongiorno, Guia Soccini, ben ritrovata anche a lei. E Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tatarella, anche Giubilei ha un libro. Buongiorno, Giubilei, gli intellettuali di destra e l'organizzazione della cultura. Si diceva negli anni 50 che la cultura passasse anche dalle droghe psichedeliche, ma non credo che sia il suo caso. No, non credo. Allora, riavvolgiamo il nastro. Maggi, lei ha quel cartello che... Noi, fra l'altro, abbiamo fatto vedere solo un pezzetto, diciamo così, di quello che è successo. No, non è discorso. Ci vuole raccontare? Ma questo è il cartello che abbiamo mostrato insieme ad Antonella Soldo di Meglio Legale, che è un'associazione impegnata in prima linea sulla questione della legalizzazione, contestando una kermess governativa, perché non mi viene un'altra definizione, nella quale per l'ennesima volta è stata data una rappresentazione di un fenomeno di massa sociale, fenomeno complesso, che è quello del consumo delle sostanze stupefacenti nel nostro paese, che riguarda milioni di persone. Una rappresentazione assolutamente falsata, dall'inizio alla fine di quel convegno organizzato dal governo. Due ore abbiamo ascoltato silenziosamente e, insomma, non è stato semplice, alla fine abbiamo mostrato in maniera non violenta quello che è una realtà, a nostro avviso. Se non ci pensa lo Stato, ci pensa la mafia. È la realtà quotidiana di quello che avviene nel nostro paese. Quando la Presidente Meloni dice i risultati delle vostre politiche, io non so a cosa si riferisca, perché a me risulta che in Italia ci sia una legge che si chiama Fini-Giovanardi, non c'è una legge che si chiama Maggi-Bolino o non so come altro. Ci ha provato in tutti i modi, ma non c'è. Possiamo dire che quando ci sono stati i governi di centrosinistra hanno sbagliato a non modificarla, perché l'unica modifica che è arrivata su quella legge l'ha fatta la Corte Costituzionale, in una parte. E i risultati che oggi abbiamo davanti, il disastro che Meloni denunciava, è conseguenza di quella legge. Il lunedì mattina, quella stessa giornata... Aspetta, la fermo un secondo solo. Quando lei parla di disastro, però, dal suo punto di vista... Il disastro è il seguente. Di che cosa sta parlando? Il 34% dei detenuti nelle carceri italiane sono detenuti per violazione di quella legge. Ed è circa il doppio della media europea. Circa il 50% dei detenuti hanno problemi di assunzione di sostanze, problemi di dipendenza. Cosa significa? Significa che negli anni il nostro Paese, i nostri governi, hanno indicato alla questione del consumo di stupefacenti un'unica soluzione. Il carcere. Ecco, la fermo un momento, perché invece ho l'impressione che per Daniele Saponaro il disastro sia tutt'altro. Cioè, magari siano i 6 milioni di consumatori di cannabis o qualcosa del genere. Però mi corregga se sbaglio. No, no, è assolutamente così. Anche perché dalla narrazione che viene fatta e che è stata fatta anche qui oggi dall'On. Maggi, sembra quasi che ci sia una repressione da parte dello Stato su questo tema. Invece, andiamoci a ricordare perché anche nel 2003, io parto sempre da quell'esempio, perché quest'anno sono 20 anni esatti dalla legge Sirchia, perché entrò in vigore nel 2005, ma comunque il testo del 2003, si parlava all'epoca di repressione, di problema di occupazione, che sarebbe stato un danno economico per il Paese. In realtà, i dati, perché per fortuna poi i numeri non mentono mai, ci dicono che ad oggi, da quella legge ad oggi, quindi al 2022, il 19% di persone ha smesso di fumare. Quindi non si trattava di una repressione, ma si trattava di una misura che andava a incentivare quella che era la salute delle persone. Quindi esiste appunto una narrazione che è pesantissima, perché poi è quasi sempre rivolta ai giovani. Il libro che lei citava prima nasce proprio da, appunto, confronti con gli studenti, noi ne abbiamo fatti tanti insieme all'onorevole Maggi nelle scuole e nell'università. Ed è molto pericoloso e anche molto facile andare a incentivare la ribellione appunto di un ragazzo, sperando che lo Stato attua una repressione su questo tema. In realtà non è così. I numeri che ha citato lei sono quelli, i numeri che davvero preoccupano e i numeri ai quali appunto si riferiva il Presidente Meloni nella conferenza stampa. Poi va anche, secondo me, toccato un altro argomento. Abbiamo onorevoli presenti, ex ministri in collegamento. Il fatto che la politica spesso, in maniera trasversale, quindi non si tratta di destra, sinistra, 5 Stelle, radicali, ha quasi sempre toccato il tema in maniera demagogica, quasi sempre dopo un avvenimento. Alcune leggi sono state fatte addirittura in scadenza di legge. Quindi è sempre stato toccato in maniera demagogica. Questo in maniera trasversale, non c'è polemia contro nessuna parma. Sempre in direzione di una maggiore repressione. Scusate, un secondo solo. Però, ecco, al di là della repressione o meno, Guia Soncini, io l'ho voluta invitare perché ha appena dato all'estanto un libro che io ho trovato molto interessante, anche divertente, e mi sono sentita ovviamente anche molto coinvolta da questo libro. Questi sono i 50, la fine dell'età adulta. È un libro, diciamo così, che non ti fa rimpiangere di essere diventato grande. E questo... Per questo ringrazio Guia Soncini. Ma, mentre appunto preparavamo la puntata, notavamo come fra questi 6 milioni di consumatori, molti siano persone appunto che hanno già i primi capelli bianchi, se non anche qualcosa di più. E in realtà non c'è questa, no, questo passaggio di tutti all'eroina. Sembra in realtà di essere fermi appunto agli spauracchi di 30 anni fa, ma tutto sommato, no? Con una situazione che non è molto cambiata, però vorrei sentire da Soncini. Ma io temo che sopravvalutiamo moltissimi modelli comportamentali, sia in senso positivo, sia in senso negativo. Quando io ero abbastanza piccola, nel prefossero 81, è uscito un libro che si chiamava Cristiana F, i ragazzi dello zoo di Berlino, che vende ancora come piccole donne, e quindi è diventato un classico 40 anni dopo, più di 40 anni dopo. Ed è un libro che dà una rappresentazione dell'eroina devastante. Ed è il libro con cui la mia generazione è cresciuta. Io alle medie leggevo Cristiana F e pensavo che l'eroina fosse la cosa più terribile del mondo. E ciò nonostante, diciamo, negli anni 80 non è che proprio scherseggiasse l'eroina. Questo, secondo me, ci dice, così come molte altre cose, noi siamo cresciuti con le campagne di dissuasione che non sono mai riuscita a capire a cosa servissero. Qualcuno ha mai deciso di non drogarsi perché in televisione sentiva preferisco vivere prodotto dal Maurizio Costanzo Show contro la droga. Non credo. Ma non credo neanche che qualcuno abbia deciso di drogarsi perché ha visto Trainspotting. Quello che intendo dire è che l'idea che si possa influire sulla società in questo senso mi sembra velleitaria. Io ero a Bologna, a Bologna fanno una cosa che si chiama il cinema in piazza, cioè proiettano dei vecchi film in piazza maggiore, ero lì una settimana fa e mentre guardavamo questo film degli anni 40, quindi un pubblico non certo di ragazzini, un pubblico di adulti cinefili, arrivava da ogni angolo, arrivavano zaffate di canne, di gente che si faceva le canne in piazza in un paese in cui teoricamente non si può. A New York si lamentano del fatto che da quando è stata legalizzata la marijuana si senta odore di marijuana ovunque. Ecco, mi sembra un po' la prova che succede anche se non è legale. Quindi in che modo pensano di impedire alle persone di fare ciò che vogliono fare? Mettendoli in galera. Mettendoli in galera ma diciamo colpendone alcuni per tentare di educare tutti gli altri perché noi abbiamo ancora nel nostro paese casi di giovani che vedono la propria vita devastata perché subiscono per quattro piante che hanno in casa delle perquisizioni, degli interventi di polizia, neanche fossero dei narcotrafficanti, e quindi con quello che comporta in termini di distruzione dei rapporti familiari, dei rapporti sociali, dei percorsi di studio. Ma io penso che sia ancora peggio di quello che abbiamo appena ascoltato, quando lo Stato fa, il Governo fa una comunicazione come quella dello spot con Roberto Mancini che è stato presentato in quell'occasione con la Presidenza. Noi l'abbiamo visto in anteprima e devo dire mi ha dato un movente in più per intervenire in quella contestazione, alcuni forse anche no, perché io penso che non sia solamente velleitario, è dannoso, perché se tu racconti, tu sei il Governo, e racconti in modo falso un fenomeno ai ragazzi, alle ragazze che sarebbero i principali destinatari, stai impedendo di stabilire un rapporto di fiducia, ma scusa, quelli pensano che sia più veritiero quello che gli dice il pusher rispetto a quello che gli dice il Governo, quindi stai creando un danno enorme di queste cose, bisogna parlare in maniera chiara, dando delle informazioni sostanziali su che cosa sono le diverse sostanze, su che effetti hanno, nelle scuole, non in quel modo lì, palesemente falso, fatinato. Giubilei, questo proprietario io voglio tirarla in ballo, perché appunto io invece ho avuto l'impressione che il dibattito fosse proprio fermo a 30 anni fa, quindi non solo, diciamo così, nelle nostre abitudini, ma proprio nelle argomentazioni, non si va avanti, siamo fermi lì e appunto il massimo che si decide di proporre, il massimo sforzo culturale, è uno spot di Mancini, che dopo, se riusciamo mi facciamo a vedere, che era di una tristezza, qualcuno appunto per fare una battuta ha detto allora mi trovo. No, è evidente che quando noi parliamo di una tematica importante come il tema del consumo di droghe, ci sia una tematica non solo di carattere sociale, ma anche di carattere culturale. Ora, prima Maggi diceva che vede le vite devastate di alcuni giovani che vengono sanzionati o talvolta arrestati perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti o perché spacciano. Io in realtà mi preoccupo molto di più delle vite devastate di tanti miei coetanei o di ancora più giovani perché finiscono a fare consumo di droga e entrano in un tunnel molto spesso che li porta davvero a rovinarsi la vita. Ecco, il primo messaggio fondamentale da spiegare alle giovani generazioni è un messaggio che può sembrare anche apparentemente banale, però in realtà è il fatto che la droga fa male e che non bisogna drogarci. Ora, io capisco che talvolta si tendono a fare delle distinzioni tra droghe che vengono definite leggere, droghe meno leggere, però il tema di fondo è che bisognerebbe fare una campagna di sensibilizzazione forte nei confronti delle giovani generazioni contro l'utilizzo di tutte le droghe. Perché guardate, fare una distinzione tra la cannabis e le droghe più pesanti rischia di creare un messaggio culturale che è quello che ci disse ma sì, in fondo se mi faccio una canna che cosa vuoi che sia, non succede niente di grave. Però Giubilei, quello che ci raccontava Soncini è però la realtà, cioè forse bisognerebbe anche provare a confrontarsi ogni tanto con la realtà, nel senso che ci sono comunque nel nostro paese sei milioni di consumatori che invece vanno al cinema si fanno una canna e poi tornano a casa e non hanno accoltellato nessuno non hanno... insomma è vero che è rischioso per esempio guidare sotto l'effetto di stupefacenti ma, e anche qui aggiungo anche questo elemento della nostra discussione nel nuovo codice della strada si fa riferimento al fatto che tu devi avere nel sangue ancora le tracce dei cannabinoidi ma non è detto che, come sappiamo siccome rimangono per giorni tu sia sotto l'effetto dei cannabinoidi quindi è una cosa molto diversa perché non si raccontano queste cose? Però lo trovo giusto il nuovo codice della strada perché noi non possiamo sempre aspettare che ci sia il morto che succeda un incidente per fare delle leggi che evitino che appunto si arriva a dei fatti gravi ora, non è un caso che per esempio l'influencer che in quell'incidente che è stato diciamo anche da un punto di vista mediatico ha creato una forte empatia sto parlando dell'incidente degli influencer che avevano leggeato quella Lamporchini esattamente a Casa Palocchio hanno ucciso un ragazzo nel momento in cui è stato fatto un test è risultato positivo alla cannabis perché purtroppo quello che avviene è che in gran parte delle giovani generazioni è passato un messaggio che è un messaggio profondamente sbagliato da un punto di vista culturale che se ci si droga tutto sommato è un qualcosa che è accettabile e che si può fare ma non è assolutamente così allora se noi non iniziamo a spiegare alle giovani generazioni i reali rischi e i reali pericoli che portano talvolta non sempre non è una correlazione automatica però i dati dei certi ci dicono che gran parte delle persone che poi passano all'utilizzo delle droghe più pesanti sempre se vogliamo dire questa distanza io le rifaccio notare i 6 milioni di consumatori abituali però io vorrei veramente che ci confrontassimo con la realtà 6 milioni di consumatori abituali vorrebbe dire che ogni anno dovremmo avere qualche milione di nuovo assuntore di eroina scusate voglio sentire un momento un momento dadone prima di questo perché se però c'è un comportamento che è un comportamento sbagliato e se lo fa un numero evidentemente cospicuo di italiani non è che la soluzione può essere legalizzare il comportamento sbagliato la soluzione deve essere scusi lei deve spiegare quando lei dice che la maggior parte delle persone perché lo abbiamo ascoltato anche lunedì scorso alla presenza dei vertici del governo italiano una serie di ragazzi che hanno raccontato di come loro sono passati dallo spinello a sostanze considerate pesanti più pesanti che danno dipendenza il problema è vero è questo considerate pesanti non solo considerate sono pesanti allora mi scusi allora mi scusi vogliamo prendere la classifica delle sostanze più nocite da un punto di vista tossico e dobbiamo ripetere che l'alcol e la nicotina il problema vero del tema è che paragonate troche pesanti e troche leggeri il punto è che se voi raccontate che si passa dalla canna alla eroina state dicendo una falsità e non vi credono quelli nei confronti dei quali volete fare le campagne di prevenzione quindi continuerete nei fatti ad alimentare la situazione esistente mi devo fermare mi devo fermare perché devo andare in pubblicità scusate mi devo fermare perché devo andare in pubblicità riprendiamo fra un momento però voglio ripartire a questo punto dalla nostra ex ministra Dadone perché è evidente che insomma appunto rivolgersi ai ragazzi non sia facile lei ha avuto un'esperienza seppur breve però insomma importante come ministro delle politiche giovanili ripartiamo da lei subito dopo la pubblicità allora 8 e 26 riprendiamo la nostra discussione iniziata questa mattina intorno diciamo così genericamente se volete alla questione delle tossicodipendenze sapete all'inizio della settimana c'è stato questo evento organizzato dal governo per presentare fra l'altro anche il nuovo spot diciamo così contro il consumo di droga che fra un attimo vi faremo vedere per l'appunto e che ha provocato data l'irruzione l'irruzione insomma la presenza dell'onorevole Maggi di più Europa con un cartello che poi si è portato anche qua quindi se ne era stampati un po' perché quello gliel'avevano sequestrato ha provocato diciamo così una reazione molto molto violenta da parte della Presidente del Consiglio che ha accusato diciamo così i precedenti governi in generale dicendo le vostre politiche hanno portato al disastro di oggi ora in realtà politiche che si erano andate nel senso della legalizzazione men che meno della liberalizzazione ma quella in realtà non l'ha mai chiesta a nessuno nel nostro paese non ce ne sono state molte a dire la verità ed è un eufemismo il mio Fabiana Dadone ex ministra per le politiche giovanili lei si è trovata a dover affrontare questo tema perché è uno diciamo così dei grandi classici dei ministri chiamati a occuparsi di ciò che riguarda i giovani e anche lei ha avuto l'impressione diciamo così che fosse un dibattito fermo a quello che veniva raccontato 30 anni fa e se sì perché intanto io ho avuto anche le delega alle politiche antidroga per cui ho avuto la delicatezza di detenere sia le delega alle politiche giovanili che quelle che riguardavano nello specifico la tematica dell'utilizzo di sostanze stupefacenti sì chiaramente il dibattito è fermo 30 anni fa io devo dirlo anche se è stato già ampiamente detto credo che spot di stampo moralista non abbiano alcun genere di effetto sui giovani che hanno bisogno di un tipo di comunicazione che è completamente differente perché altrimenti si crea un muro tra le istituzioni e loro che è insormontabile crea anzi quell'effetto ridicolizzante di quella che è la campagna del governo agli occhi dei più giovani sono molto più utili le campagne che fanno certi serdi in Italia che sono bellissime utilizzando dei canali social tramite i quali spiegano gli effetti dell'utilizzo di determinate sostanze di tutte le sostanze arrivando con un metodo comunicativo molto chiaro molto semplice social utilizzando anche le immagini legate alla gamification e ai film che hanno un impatto un effetto sui ragazzi che sono però effettivi e guardi io quando ho dovuto organizzare la conferenza sulle droghe lì sì che mi sono resa conto che era il dibattito fermo 30 anni fa ma sa perché la reazione della presidente Meloni mi ha lasciato abbastanza attonita sentir dire da un presidente del consiglio che le vostre rivolte naturalmente a tutti coloro che non sono al governo le vostre politiche ci hanno portato allo stato in cui stiamo oggi mi lascia senza parole perché le politiche attuate fino ad oggi sono quelle che sono state attuate col testo unico sugli stupefacenti che risale tra l'altro al 90 e successivamente con la modifica che è la Fini Giovanardi è stata anche citata prima certo a che cosa serve la conferenza nazionale sulle droghe questo è giusto per fare un inciso rapido è una conferenza che si dovrebbe tenere ogni tre anni per valutare lo stato di impatto della normativa non è stata fatta per 12 anni ecco quello anche è chiaro che c'è qualche cosa che non funziona in questo paese ci stavamo per arrivare esatto ci si ferma è un dibattito vecchio e soprattutto che non viene aggiornato assolutamente no è un dibattito che vuole essere mantenuto sterile si fa sempre un minestrone di tutti gli argomenti e non si vuole mai affrontare la tematica senza creare la polarizzazione sì no alle droghe leggere ma provando a guardarla da un punto di vista ancora più ampio cioè proviamo a guardare il panorama internazionale guardiamola noi la conferenza io personalmente l'ho voluta organizzare dopo 12 anni e l'ho fatta in 8 mesi e ho depositato tra l'altro la relazione al Parlamento entro il 30 di giugno oggi siamo al 2 non mi risulta che sia stata depositata da un governo che è estremamente attento alla tematica e ho voluto affrontarla guardando a 7 temi uno dei quali era l'impatto carcerario su cui i dati sono stati citati prima che dà una fotografia chiara di quale sia l'impatto della Fini Giovanardi e quindi gli effetti di queste politiche sul sistema penitenziario e sulla permanenza della tossicodipendenza all'interno delle strutture carcerarie il problema del welfare del reinserimento in società dell'aggancio precoce della riduzione del danno parlare di prevenzione in termini di riduzione del danno non deve fare paura se ne parlava parlare della casa di senso medico io credo di aver cominciato a lavorare sentendo parlare di riduzione del danno quindi qualcosa appunto come circa 30 anni fa vi facciamo vedere questo famoso spot che abbiamo evocato che ha visto coinvolto l'allenatore Mancini e dopo io invece vorrei sapere da voi qualche cosa insomma inerente queste politiche vediamolo insieme però visto che la regia l'ha recuperato le droghe tutte le droghe fanno male solo con coraggio e determinazione si possono vivere le emozioni vere hai visto Mancini che cosa ha fatto? ha fatto un video contro le droghe dai facciamo un video anche noi dai le droghe tutte le droghe fanno male bravi fatelo girare tutte le droghe fanno male ma se ne può uscire vivete le emozioni quelle vere sì perché quel fatelo girare sembra la canna che fai girare insomma vabbè adesso ci stiamo senta adesso invece parlando seriamente lo sa che il retropensiero è che in realtà non si vogliono affrontare certi argomenti perché alla fine fa comodo che resti tutto così com'è allora intanto quando si parla di politiche su questo tema io dubbio poi è chiaro che la Meloni non ha bisogno che vengo io qua a difenderla ma chiaramente non immaginava e non intendeva le politiche nel senso di leggi di norme ma tutto quello che è stato l'orientamento e il movimento ideologico intorno a questo tema e Giubilei prima non ha sbagliato a spostare passatemi in termini l'argomento su appunto cocaina eroina per un semplice fatto perché tutto il movimento che sta intorno alla liberalizzazione ed eventuale legalizzazione della cannabis e delle droghe così leggeri nessuno ha mai parlato di liberalizzazione di legalizzazione sono due cose molto diverse assuramente prevede anche Saviano che cosa ha detto di recente ma sono anni insomma che lo sostiene che è necessario per contrastare la cocaina andare a legalizzarla quindi è evidente che sia solamente uno strumento la legalizzazione della cannabis per poi arrivare a quella che è appunto la legalizzazione di sostanze molto più pesanti come appunto la cocaina e non a caso quando si dice che non c'è confronto su questo tema il referendum è lo strumento più importante che hanno i cittadini per andare a confrontarsi su un tema così importante è stato proposto il referendum sulla cannabis noi eravamo anche abbastanza soddisfatti perché finalmente il tema del quale prima si parlava molto poco in Parlamento ma tanto nelle scuole e nell'università veniva appunto portato alla ribalta il referendum non è passato non per un capriccio di qualcuno non è passato perché la consulta ha stabilito che vedeva nella proposta referendaria il rischio che si andasse poi a procedere alla coltivazione delle droghe più pesanti degli estratti delle droghe più pesanti quindi è tutto quanto il movimento che porta a immaginare che una volta legalizzata la cannabis si va perché allora se lo sostengono i promotori se lo sostiene il testo insomma c'è il referendario è palese che la volontà sia quella di passare ora per la cannabis e arrivare poi alla cocaina e questo qua francamente mi sembra inaccettabile quindi in realtà non è qualcosa che succede automaticamente deve essere indotto attraverso quello che sta dicendo lei quello che succede automaticamente è un effetto stiamo parlando di due cose diverse io poi non sono nemmeno io faccio tutt'altro di lavoro io sto parlando di quello che si vuole ottenere a livello di politica Giubilei ha parlato appunto degli effetti ma quello che si vuole ottenere a livello di politiche è ottenere oggi la legalizzazione della cannabis e ottenere domani subito domani la legalizzazione della cocaina questo qua lo dicono non io ma i sostenitori come Saviano e lo dice il testo referendario per l'appunto bocciato esattamente per questo motivo so che non era esattamente così lo so non glielo faccio però il testo è la motivazione il problema semplicemente secondo me è mal posto cioè oggi c'è un consumo di massa di queste sostanze anche della cocaina non solo della cannabis lei lo sa benissimo allora il problema è che se io oggi arrivassi qui e le dicessi poiché in Italia abbiamo diverse migliaia di morti l'anno come conseguenza dell'abuso di alcol diverse migliaia niente di comparabile con la somma di tutte le altre sostanze stupefacenti e quindi venissi qui a proporvi la proibizione della vendita legale dell'alcol voi mi direste sei matto tu in questo modo faresti nascere un mercato in mano alla criminalità no le direbbero che danneggia il Made in Italy è diverso danneggia il Made in Italy allora danneggia non lo so lo chiedo a Giubilei però cosa mi risponderebbe capite quanto è ottusa questa discussione Giubilei ma che sono due cose profondamente profondamente diverse perché come ha detto lo stesso Maggi stiamo parlando di abuso dell'alcol è evidente e questo è il codice peraltro ma tutti quelli che abusano hanno cominciato con un bicchiere Giubilei tutti hanno cominciato con un bicchiere mentre la cannabis non serve l'abuso perché la cannabis in quanto droga anche farne un utilizzo limitato altera lo stato psicofisico e talvolta molti giovani l'alcol non è una droga si mettono in strada si mettono in macchina peraltro l'Istat ci racconta che negli ultimi 20 anni le persone gli incidenti provocati da persone che guidavano sotto sostanza stupefacenti è passato dallo 0,1 all'1,4 con un aumento sostanziale e il problema è che nel momento in cui si ha un abuso di alcol è evidente che si crea un problema però sulle droghe anche se non si ha un abuso di droga anche se ne ha un utilizzo limitato si crea un'alterazione allo stato psicofisico poi il fatto che molti italiani grazie a Dio non tutti però una percentuale cospicua di italiani faccia uso di sostanze stupefacenti ripeto non significa che noi dobbiamo andare a legalizzare un comportamento sbagliato poi se voi mi dite che i messaggi i messaggi istituzionali che talvolta vengono proposti hanno una comunicazione che non arriva ai giovani non arriva ai giovanissimi su questo posso essere d'accordo però noi possiamo discutere ci sta dicendo che non le è piaciuto molto neanche a lei lo spot di Mancini però noi possiamo discutere la forma del messaggio ma non possiamo discutere la sostanza allora noi possiamo dire che la sostanza deve essere contrastare le droghe poi capire quale sono le formule comunicative che arrivano ai giovani e ai giovanissimi è evidente che da un punto di vista culturale se da un lato ci sono gli spot istituzionali che per definizione sono un qualcosa che hanno difficoltà ad arrivare alle fasce più giovani della popolazione e dall'altro lato ci sono le serie tv che sono viste da milioni di giovani che sono fatte diciamo in un modo da un punto di vista tecnico estremamente ben fatte in cui si raccontano dei messaggi che sono dei messaggi in cui viene rappresentato lo spacciatore come una figura positiva viene tutto sommato sdoganato il consumo della droga da questo punto di vista c'è un problema di comunicazione quindi è chiaro che il mondo contrario all'utilizzo della droga deve fare una riflessione su come cercare di arrivare ai giovani giovanissimi anche attraverso i social network se però noi continuiamo ad avere gli influencer se continuiamo ad avere gran parte degli attori del mondo dello spettacolo che continuano a portare avanti dei messaggi che sono dei messaggi a favore dello sdoganamento del consumo delle droghe questo è un problema per tanti giovani e su questo con noi dobbiamo intervenire Soncini invece i cinquantelli di cui parla lei come li convinci perché sempre che si voglia poi pensare di convincerli perché mi sembra che insomma non ci sia siano andati serenamente avanti in questi anni facendosi canna o qualsiasi altra cosa come ricorderete tutti 31 anni fa in campagna elettorale chiesero a Bill Clinton se si fosse mai fatto una canna e lui rispose non ho aspirato e a me sembra che l'ambiguità della politica rispetto alle droghe sia tutta sintetizzata lì perché le cose che sento dire anche in questo dibattito insomma non so bene sì quello youtuber che ha investito un bambino si era fatto una canna quindi vogliamo dire che è quello il problema dello youtuber che ha investito un bambino perché io sospetto che ci siano altri 150 elementi prima dell'essersi fatto una canna anche perché a parità di dibattito allora c'erano altri milioni di italiani che quel giorno si erano fatti una canna e non hanno investito nessuno ma soprattutto io non ho capito una cosa di quello che sostiene il jubilei rispetto all'alcol ma se vogliamo anche alle sigarette perché l'alcol e le sigarette sono cose su cui lo stato fattura e la droga invece no perché non va bene l'alcol e le sigarette fanno del bene a qualcuno di noi no però non alterano lo stato psicofisico la sigaretta è una cosa che uno fa e fa male se mai se stesso no le sigarette le sigarette le ho detto le sigarette non alterano lo stato psicofisico fa male al fumatore poi ognuno è libero si vuole fumare se uno si fa una canna e poi si mette in automobile crea un problema anche agli altri però scusi Giubilei io che non ho la patente mi posso fare una canna perché tanto non mi metto a guidare no ma il problema è un altro dal mio punto di vista no ma non solo dal mio punto di vista ma dal mio punto di vista è la teoria della legge lo vede che non regge tanto nel senso che no io mi faccio una canna nella mia cameretta a chi do fastidio non guido è un comportamento sbagliato siamo alla repressione dei comportamenti anche senza vittima è un salto di qualità ed è importante apprendere che diciamo la destra vuole reprimere e punire dei comportamenti senza vittima quindi ci avviciniamo allo stato etico moralista e persino confessionale ma non è è un comportamento che peraltro va ad alimentare un sistema che è un sistema quello illegale quindi legato anche alla criminalità organizzata che non si risolverebbe legalizzando l'attenzione perché nel momento in cui tu legalizzi il consumo e lo spaccio di droga è evidente che la mafia continuerà a farlo su droghe di altro tipo e che cosa fai legalizzando la cannabis o comunque legalizzando le droghe legalizzi de facto la mafia quindi fa in modo che la mafia entri ancora di più nell'economia reale come purtroppo avviene in altri settori quindi non può essere questa la soluzione ma peraltro lo dice Borsellino non lo dico io sì cioè non andrei più dallo spacciatore probabilmente se dovesse riferire i minimi di droga legalmente uno lo farebbe per le droghe pesanti volevo far finire i soncini però perché è stata interrotta no e non altera lo stato psicofisico è una frase suggestiva però non è vera nel senso che sarà vero che le sigarette non alterano lo stato psicologico ma a quello fisico fanno venire il cancro ai polmoni ora il problema vero della comunicazione se vogliamo parlarne seriamente rispetto per esempio all'eroina è che il grande non detto è sempre stato che l'eroina ti ammazza ma prima di ammazzarti ti fa stare bene perché sennò la gente non comincerebbe a drogarsi quindi l'eroina adesso fa bene adesso siamo a dire che l'eroina fa bene giubilei per piacere ma insomma chi si droga evidentemente lo fa perché prova a piacere a farlo perché sennò si darebbe delle mantellate sulle dita facciamo finire facciamo finire soncini per piacere io non l'ho mai fatto ma immagino che sia così prego nessuno comincerebbe a drogarsi se non ci fosse una fase piacevole iniziale quindi la comunicazione sull'eroina non ha mai funzionato perché ha sempre solo detto l'eroina ti ammazza io me lo ricordo perché lei non era nato ma quando io ero piccina c'era molta eroina in giro e la comunicazione era state attenti agli spacciatori fuori da scuola perché alla prima siringa di eroina muori la gente cominciava vedeva che alla prima siringa di eroina non moriva e quindi non credeva più a quello che le dicevano quindi dobbiamo giustificare il consumo giubilei per cortesia per cortesia faccia finire poi dopo le faccio muore il consumo di eroina sì Kit Richards è ancora vivo però per cui questa questa politica di comunicazione è diventata più complicata ma lei scusi ma si rende conto cosa sta dicendo cioè lei sta sdoganando il consumo di eroina ma se lei si rende conto ma ci sono famiglie ma ci sono famiglie con le politiche che fate se si consuma il consumo di eroina è ancora vivo tutto sommato ma si rende conto che ci sono famiglie intere che sono state distrutte dal consumo di droghe io non so se si rende conto di cosa sta dicendo no non me ne rendo conto perché vivo su Marte secondo lei io non so che esiste il problema dell'eroina provi ad ascoltare quello che le viene detto e a rispondere a quello che le viene detto invece di immaginarsi delle posizioni quello che le sto dicendo è che la comunicazione rispetto a una questione va fatta in una maniera per cui chi la riceve non pensi mi stanno dicendo una serie di sciocchezze perché vedo che non è vera la prima cosa che mi dicono la comunicazione è fatta in quel modo non ha funzionato infatti la gente ha continuato a drogarsi benissimo cambiamo la comunicazione ma non diciamo che chi fa uso di eroina anche se lo fa una volta tutto sommato poi continua a vivere quindi ha fatto una volta consumo di eroina e va bene cioè il tema è possiamo cambiare la forma della comunicazione c'è gente che l'ha fatto tutta la vita l'eroina ti ammazza se sei povero questo è il grande e quindi se l'ha fatto tutta la vita i giovani andiamo fuori dalle scuole distribuiamo i volantini dicendo ragazzi consumate l'eroina tanto tutto sommato guardate ci sono alcuni attori che lo fanno tutta la vita e sono ancora vivi ma è questo il messaggio che dobbiamo trasmettere è che lei può scrivere quello che vuole sui volantini perché i volantini non influiscono su nulla e su nessuno i giovani e i meno giovani non decidono di drogarsi in base alle campagne al volantino decidono di drogarsi o meno in base anche a un contesto sociale facciamo le serie tv che spiegano perché ha sbagliato drogarsi ma se noi andiamo in televisione diciamo che consumare l'eroina tutto sommato alla fine non succede niente perché ci sono anche gli attori che lo fanno e sono fighi perché stanno ad Hollywood e guadagnano milioni di euro e si fanno di eroina dai un messaggio culturale alle giovani generazioni sbagliate e tuttavia scusate andiamo avanti non frega niente voglio sentire anche Dadone su questo perché appunto è vero che comunque un certo messaggio che ti può arrivare e lei è sicuramente esperta in questo perché so che tra l'altro è una attenta analista anche di quello che succede in rete adesso i messaggi per esempio che ti possono arrivare dalla rete lei prima ce ne accennava vorrei che ce lo raccontassero un po' meglio questo aspetto perché è meno conosciuto diciamo noi vediamo di più un altro tipo di comunicazione questo è meno conosciuto e però come ci sono gli influencer che determinano i nostri comportamenti sicuramente anche in questo ambito forse qualche cosa si muove certo che qualche cosa si muove quello che si critica oggi alle campagne istituzionali è il fatto che abbiano un approccio che non è di 30 anni fa è di ancora prima perché tutto quello che ho sentito fino adesso che dalle canne si arriva poi a legalizzare l'eroina mi pare proprio fuori contesto cioè si continua a buttarla in cacciara per non provare a dare invece tramite una comunicazione che sia più lineare ai ragazzi delle informazioni perché poi alla fine anche la libertà di scelta dipende dal detenere delle informazioni e sapere come gestirle ma questo non significa che gli si voglia avviare verso qualcosa io credo che il sistema sanitario penso in particolare ai SERD che citavo prima sappiano fare delle campagne comunicative sicuramente migliori e più efficaci di quelle che vengono fatte per carità grazie a Mancini che ci ha messo la faccia ma dicendo qualcosa che è noto a tutti che le droghe fanno male poi se mi permette prima ho sentito parlare e sono pienamente d'accordo del fumo e dell'alcol di cui si parla veramente poco anche se i dati sono molto preoccupanti e si fa tanto i rigidi e i severi in termini di politiche sulle cosiddette droghe leggere ma su tutta quest'altra tematica si sorvola perché c'è il discorso del Made in Italy c'è quello sull'accise c'è un altro dato che qui non è stato citato che è anche vero nel senso che comunque c'è una cultura che riguarda il vino adesso perché non vorrei che poi passasse il messaggio che ovviamente ma questo è fuori di dubbio io vengo dalla Langa si figuri mi permetterei mai di attaccare il vino Made in Italy però il discorso è su come la si pone se si fa i duropuristi poi l'atteggiamento dovrebbe essere mantenuto in tutto cioè si fanno delle campagne di comunicazione di questo genere poi quando escono le notizie dell'arresto del pusher che fanno chiaramente eco su tutti i giornali che distribuiva cocaina anche ad ex politici ho noto ai tempi insomma in cui ho fatto la conferenza sulle droghe dell'ex portavoce di Salvini che fu travolto a livello insomma pubblico dalla notizia che riguardava anche l'utilizzo di sostanze stupefacenti è chiaro che messaggio diamo a chi ci guarda da fuori cioè facciamo tutti i duri e i rigidi sulle normative accusiamo chi vuole la legalizzazione di essere la parte di politica che spinge i giovani verso la tossicodipendenza poi tutta quell'altra parte facciamo finta che non esista e la ignoriamo no dicevo un dato che mi ha stupito di cui non abbiamo per nulla accennato che è l'utilizzo molto ampio da parte dei giovani e dei giovanissimi invece delle nuove sostanze psicoattive tra le quali rientrano gli psicofarmaci senza ricetta ecco ma abbiamo parlato molto molto a lungo della cannabis e molto poco del fatto che soprattutto le ragazze questi sono dati pubblici che si possono trovare ovunque facciano un ampio utilizzo di psicofarmaci che alterano chiaramente lo stato psicofisico e senza alcuna ricetta cioè queste sono sostanze che si possono comprare ovunque allora o il discorso sul tema della dipendenza lo facciamo di ampio respiro ragionato guardando i dati guardando il nuovo panorama guardando quello che spinge la persona ad avere bisogno della sostanza ma anche del gioco d'azzardo perché anche la ludopatia è dipendenza cioè allora o la guardiamo ad ampio spettro e trattiamo tutto da un punto di vista oggettivo e ripeto guardando i dati e non solo quello che ci piace a livello di passione politica o di ideologia altrimenti non ci muoveremo di un millimetro peraltro se mi permetta ancora un accenno sul nuovo codice devo andare in pubblicità ma sì li lascio volentieri prego grazie sul nuovo codice della strada il fatto che si vada a punire anche la tracciabilità di sostanze è quello che dicevamo prima è assurdo rispetto a chi prende dei farmaci ad uso medico che fa quello che prende dei farmaci ad uso medico e poi viene fermato esattamente poi fra l'altro non è la stessa cosa la traccia che ti lascia anche l'uso di uno stupefacente dopo una settimana o un mese al consumo immediato sono due cose completamente diverse l'idea è che sia l'approccio moralista questo dobbiamo andare in pubblicità ripartiamo allora da qua cioè dal fatto che come faceva notare anche Dadone non solo siamo fermi a 30 anni fa ma non c'è neanche studio non c'è neanche ricerca ci arriviamo nell'ultimissima parte subito dopo la pubblicità e allora l'ultimissima parte di questa prima parte di Omnibus e la dedichiamo ancora a discutere di droga tossicodipendenza di come si intende affrontare il tema se si intende affrontare il tema perché diciamo così la tesi dalla quale io sono partita se volete un po' provocatoria ma che ha un suo fondamento è che tutto sommato il dibattito sia fermo a 30 anni fa anche se per esempio appunto prima la nostra Fabiana Dadone ex ministra delle politiche giovanili ci diceva per esempio c'è tutto un mondo totalmente inesplorato che riguarda nuove sostanze delle quali si parla pochissimo che vengono consumate per le quali tra l'altro non è neanche necessario né andare dallo spacciatore né fornirsi di nascosto ecco quindi c'è una ricerca bloccata sostanzialmente c'è un mondo totalmente inesplorato di applicazioni cliniche di queste sostanze mi ha colpito che durante la Kermess governativa il governo italiano ha invitato due esperti diciamo proibizionisti americani che hanno insistito molto su quello che a loro avviso è il fallimento incolorato della legalizzazione della cannabis ecco mentre noi eravamo lì a Montecitorio a Denver si esvolgeva la più grossa convention sugli psichedelici che mai c'è stata nella storia 13.000 persone tra medici politici artisti a parlare tra l'altro di promettenti applicazioni per quanto riguarda la cura di sindromi da stress post-traumatico di depressioni gravi resistenti ai farmaci con psilocibina e con MDMA che erano quelli che a volte erano i funghi che andavi a raccogliere in Messico c'era tutto un alone mistico intorno queste sperimentazioni sono già non era appunto consumo non sei tu che vai dallo spacciatore parliamo di applicazioni mediche associate a percorsi di psicoterapia già in Colorado e in Oregon c'è stata la legalizzazione dell'uso medico e in Colorado anche della coltivazione di funghi e di psilocibina per uso personale in Australia questa settimana però anche da noi c'è Maggi da noi se hai bisogno di fumare per risolvere problemi legati allora il punto è questo questa ricerca in fase clinica da noi non esiste perché non è un caso che non esista perché ovviamente se l'approccio è quello moralistico e di condanna dei comportamenti e di condanna della sostanza per cui non si riesce neanche ad accedere al fatto che vi sia una ricerca ma in questo paese da 15 anni c'è una legge che prevede il diritto di curarsi con la cannabis terapeutica e non viene fornita ai pazienti perché è l'unico farmaco di cui noi abbiamo dato la produzione in monopolio ai militari ma vi rendete conto di quale altro farmaco abbiamo dato la produzione in monopolio ai militari neanche fosse una roba radiattiva e perché questo per i discorsi che abbiamo ascoltato stamattina perché non c'è laicità di approccio l'approccio ideologico è di demonizzazione della sostanza quindi neanche si riesce a vedere qual è il beneficio che può portare allora a Denver c'erano politici repubblicani e democratici insieme perché si stanno avendo dei risultati incredibili per esempio nelle terapie nei confronti dei veterani di guerra e nel superamento di condizioni gravissime di disagi mentali e noi noi questo noi arriveremo per ultimi gli sciamani l'hanno sempre saputo Saponaro però ecco il rischio che sottolineava Dadone che sfugga tutto un altro mondo se non si affronta appunto questo tema in maniera laica diciamo no? come lo si risolve? allora il rischio ci arrivo subito volevo prima precisare una cosa su quanto è stato detto prima perché la narrazione è importante avevo esordito così all'inizio perché abbiamo parlato per tanti minuti di repressione abbiamo visto è stato citato prima io ho anche stato ieri a Bologna per lavoro per una fiera e ho visto i cinema in piazza la repressione non esiste assolutamente perché non mi pare me lo confermerà chi è stato lì a vedere il cinema non mi pare di aver visto camionette che prendevano e prelevavano i pochi non erano così tanti persone o comunque c'è ragazzi più grandi eravate a vedere lo stesso film anche lei sentiva il profumo probabilmente non lo stesso film perché io stavo ieri e ho sentito la scrittura che stava la settimana scorsa però comunque la repressione quindi non esiste ma non esiste neanche il moralismo io insisto su queste due parole perché sono due concetti mi perdoni sono due concetti che a un giovane fanno molto effetto dove sta il moralismo quando insomma si va a dire che e non è stata buttata in cacciata la questione semplicemente chi promuove la legalizzazione della cannabis promuove anche la legalizzazione della cocaina e questo qua si può dire tranquillamente ormai ne sono usciti pubblicamente con articoli giornali comunicazioni quindi è una cosa tranquilla nessuno sta buttando in cacciata nulla semplicemente si ammette che la cannabis è il primo gradino il primo step per arrivare poi alla legalizzazione della cannabis questo ci rindevo a previsarlo su quello che mi ha chiesto lei il rischio ci sta ed è enorme ma è ancora più grosso di quello che noi immaginiamo perché e mi rifaccio al cartello non è vero che se non ci pensa lo Stato ci pensa la mafia perché è assolutamente il contrario per esempio il ragazzo che abbiamo appunto citato prima l'accusato di aver commesso l'omicidio a prima valle aveva 17 anni minorenne sicuramente nel caso venisse legalizzata la cannabis sicuramente verrebbe legalizzata dai 18 anni in su se non 21 addirittura quindi tutta quella fascia di età che poi era più pericolosa perché ormai il primo approccio con il mondo delle sostanze stupefacenti si va verso i 13 anni quindi sono 5 anni di età è tutta la fase adolescente verrebbe naturalmente scoperta e lasciata ancora in mano alla micro e macro criminalità che quindi investirebbe soprattutto su quella fascia quindi io la invito la invito a essere molto cauto sulla vicenda di prima valle perché in realtà non si sa tanto no ma nel senso che non si sa esattamente come si è andata non ho detto condannato no no ma al di là dell'accuso della condanna lui stesso in realtà racconta che la ragazza che lui ha coltellato gli avrebbe detto se no lo dico a tua madre che ti fai le canne cioè non era un problema di pusher ho usato l'episodio perché l'ha stato citato in apertura certo no no però proprio per dire che però il tema è molto più grande di quell'episodio perché i minorenni dove andrebbero lo Stato chiaramente non può garantire di andare a legalizzare la cannabis almeno non è stato ancora proposto questo poi mi aspetto di tutto lei sa che non si potrebbero vendere neanche le sigarette ai minorenni non si possono vendere non è che non si potrebbero vendere chi lo fa commette un illecito io vedo in continuazione ragazzini che fumano quello purtroppo no però e tornando su questo tornando all'alcol ci sarebbe anzi ci sta una legge che addirittura evita anche a chi insomma somministra alcol di andare a somministrarlo a una persona già manifestamente ubriaca neanche questo viene comunque sia applicato posso contestare telegraficamente una cosa che non ci sia oggi repressione lo sa che da quando c'è il testo unico sugli stupefacenti un milione e mezzo di persone hanno subito una sanzione amministrativa solo per il fatto di essere consumatori cioè sono stati fermati non guidavano erano a passeggio con il cane sotto casa gli hanno trovato una quantità minima di sostanza che è stato riconosciuto essere per uso personale e hanno subito il ritiro del passaporto il ritiro della patente questa non è una persecuzione per che cosa? per uno stile di vita di cui voi non approvate il senso il valore il comportamento senza vittime non ci sono vittime questo è il modo in cui la logica di Mantovano che era lì l'altro giorno che è uno degli autori della Fini Giovanardi e che ora si presenta come nuovo mentre ci dovrebbe spiegare i risultati delle sue politiche questa è la logica e il fatto che lei oggi dice che non c'è repressione ci prepara a una nuova stretta repressiva cioè a un nuovo inasprimento delle pene per questo io contesto l'operazione politica che è stata fatta lunedì cioè dire il disastro è colpa vostra dei progressisti o non so di chi prepara la nuova stagione cioè Mantovano ha detto la riduzione del danno e che cos'è questa scemenza della riduzione del danno noi dobbiamo avere idee chiare principi chiari io riconosco alla Ministra Dadone la bontà del lavoro che ha fatto il coraggio che ha avuto a convocare quella conferenza e nel tavolo che riguardava le riforme della normativa è venuto fuori da parte di tutti i relatori di diverso orientamento che andava fatta un abbassamento delle pene sui fatti di lieventità Fratelli d'Italia ha proposto l'aumento delle pene anche per i fatti di lieventità una depenalizzazione ad esempio della coltivazione per uso personale perché semplicemente non ha più senso continuare ad accanirsi in questo modo non ha senso l'esperimento delle pene sul codice della strada arriva dieci anni sono non quindici anni dopo quello fatto su chi era appunto al volante da ubriaco quindi quindici anni dopo si è passato prima parliamo di volante da ubriaco voi volete punire uno che ha una tracciabilità nel sangue nella saliva di una sostanza che ha preso una settimana prima ma vi rendete conto ma vi rendete conto di questa cosa cioè non c'è nessuna alterazione nelle condizioni di guida ma come si fa da un punto di vista giuridico poi dite anche di essere garantisti non lo so bisogna chiederlo è prevenzione si chiama prevenzione ma prevenzione è che scusami tanto ma tu togli la patente a qualcuno che non sta guidando in uno stato di alterazione ma che prevenzione ma questa è persecuzione ma quale prevenzione non è persecuzione è prevenzione è onde evitare che si arrivi all'incidente con la morte allora ti dico che se tu avessi il modo di vedere chi si è ubriacato e ha preso un certo tasso alcolico tre giorni fa perché non hai modo di vederlo tu non la faresti questa prevenzione questo è il punto questa è l'ipocrisia no non è l'ipocrisia non hai il modo di vederlo attraverso quel test perché non resta così a lungo quanto l'uso della cannabis allora la prevenzione la fai solo sulle sostanze su cui piace farla a te no nel momento in cui l'istat ti certifica che il 27% degli incidenti vengono provocati da persone che sono sotto uso di sostanze stupefacenti tu devi cercare attenzione quasi tutto alcol quasi tutto alcol diciamolo che è quasi tutto alcol del Made in Italy col monopolio di Stato con le accise solo ed esclusivamente del consumo di droga 27% ma non esiste è falso è falso è assolutamente falso è quasi tutto alcol allora io vi devo no però mi scusi una sola cosa perché l'onorevole oggi sta ripetendo un po' voi avete voi fate io non sto in Parlamento faccio parte di nessun partito c'è stato lui però in Parlamento e anche con una forza di maggioranza è stato detto che negli ultimi anni non è stato fatto nulla dalla politica su questo cosa avete fatto in Parlamento da forza di maggioranza se non portare avanti un tema così lo venite a dire ora che chiaramente state all'opposizione quindi per cercare lo spiego che cosa la forza io ho maggioranza nel governo Draghi dove la ministra Tadone dove la ministra Tadone dopo 12 anni che non si faceva ha fatto la conferenza sulle droghe da cui sono venuti spunti dai vari tavoli sulle varie questioni trattamento cura delle dipendenze modifica della normativa vedremo che cosa ci farà sognare il governo Meloni ma sicuramente non avete fatto nulla voi sul tema però è vero è vero che non ci sono stati passi avanti da questo punto di vista devo fermarvi devo chiudervi perché ormai dobbiamo andare dobbiamo andare quasi in pubblicità Tadone voglio farle concludere il suo ragionamento però perché ho sentito che stava voleva intervenire c'è stata anche nella conclusione dei lavori della conferenza anche un importante a parte il fatto che hanno partecipato tutti quindi hanno potuto parlare tutte le voci anche quelle che erano contrarie che è una cosa che invece mi pare che a questo governo non aggradi così tanto ma che al termine di quella conferenza si è parlato anche tanto di investimento nella ricerca non solo legata alla cannabis ad uso medico che oggi come è stato ricordato prima viene prodotta solo dallo stabilimento farmaceutico di Firenze che è militare e questo dà chiaramente un quadro rispetto all'approccio culturale che c'è in questo paese si è fatto poi un protocollo al termine di questa conferenza per aumentare la produzione non è ancora sufficiente perché continuiamo a comprarla dall'estero ma si è proposto anche di investire in ricerca per formare gli operatori sanitari che lavorano nel settore non continuare diciamo la classica trafila dei CERD che distribuiscono metadone ma provare ad avere un approccio che sia legato a quelle che sono le nuove sostanze in circolazione e parlare anche di investimento nel settore medico in termini di università provare a prevedere dei corsi che trattino il tema delle dipendenze anche in termini di prevenzione di aggancio precoce ma perché anche no di riduzione del danno che in alcune parti d'Italia c'è ma non è uguale in tutto il territorio voi dite che non abbiamo fatto niente ma io quella conferenza l'ho fatta dopo 12 anni con 5 forze politiche diverse all'interno del governo che avevano posizioni diverse tant'è che è stato dimostrato dai lavori di apertura il ministro del Gelmini ha dato la sua opinione il presidente Fedriga che veniva per le regioni ha dato la propria il ministro Orlando il ministro Patuanelli la propria quindi era chiaro che c'era un ventaglio di posizioni ma è stata data la parola a tutti e quel lavoro ha portato a scrivere un piano di azione nazionale che dall'attuale governo invece è stato messo nel cassetto un piano costruito con 230 esperti dal basso verso l'alto che è stato apprezzato molto a livello europeo ma purtroppo non a livello italiano e quindi questo è il risultato Guia Soncini dobbiamo chiudere voglio salutare anche lei con un'altra provocazione un'ultima provocazione però perché in tanti diciamo così hanno alla fine sostenuto che sì vabbè si parla delle droghe si arriverà forse a una stretta ulteriore ma insomma perché è uno dei modi migliori diciamo per non affrontare altri temi e altre questioni non a caso sono quei temi che infiammano e che sono molto identitari anche così si dice per cui permettono schieramenti netti da una parte e dall'altra e nascondono poi invece altre magagne è ancora così è una lettura corretta secondo lei oppure no? Oddio non lo so mi ha fatto impressione che la ministra da donna abbia citato l'ex ministra da donna abbia citato gli psicofarmaci e nessuno abbia raccolto questa questione cioè che anche in questo siamo ancora fermi a 30 anni fa quando c'era l'esplosione del Prozac in America dove molti stati hanno legalizzato la marijuana ci sono molti più morti per antidolorifici o più dei prescritti dai medici comprati in farmacia e molti più morti non ci sono morti per marijuana per cui per forza sono molti di più però ci sono molti morti per antidolorifici o più dei e tutto questo secondo me dice una cosa che che ne pensino Roberto Mancina e Francesco Giubilei la gente la propria emotività la altera come vuole trova dei modi per alterarla che tu glielo impedisca legalmente o no ma soprattutto che tu faccia delle campagne dicendo guardate che morite o no francamente mi sembra che la comunicazione sulla droga mi dispiace se insisto sembri un po' il ricordati che devi morire del film di Benigni e Troisi in realtà l'alterazione delle proprie emozioni è una delle cose che consideriamo ho l'impressione che Dadone non parlasse solo di quello quando si riferiva anche agli altri psicofarmaci lei ha fatto benissimo a rilevare quello che succede in America ma questo consumo da parte soprattutto delle ragazzine secondo me è chiaro che in Italia ci riferiamo all'Oxanax eccetera però diciamo è tutta roba che si compra in farmacia appunto infatti quello dicevamo certo ma non c'è dubbio non c'è dubbio Giubilei qual è la prossima mossa secondo lei quindi a questo punto che cosa ci dobbiamo aspettare ma il punto è capire che modello di società vogliamo immaginare se l'ho detto poco fa che anche in quegli stati americani in cui c'è stata una legalizzazione delle droghe leggere il consumo di droga ha continuato ad avvenire per forme diverse quindi è evidente che la soluzione non può essere legalizzare la cannabis peraltro in quegli stati che ci vengono presentati come dei campioni da un punto di vista liberal di politica a favore della legalizzazione si vivono dei fenomeni come per esempio il consumo di fentanil che è una situazione davvero complessa in gran parte nel mondo americano con delle scene che si possono vedere a San Francisco nelle grandi città liberal americane in cui c'è un consumo enorme di fentanil che provoca per l'appunto una vera e propria epidemia quindi la soluzione a cui noi ci dobbiamo interrogare è quale modello di società vogliamo pensare se è un modello di società in cui in modo netto onesto e chiaro diciamo alle giovani generazioni che fare consumo di droga è un qualcosa di sbagliato e tutti insieme cerchiamo di fare in modo che si eviti che gran parte della vita di questi giovani che hanno talvolta dei disagi anche psicologici vengano rovinati oppure se vogliamo pensare un modello di società che è un modello di società a mio modo di vedere totalmente relativista quindi un modello di società che dimentica il tema dei valori come ci insegna figure come Benedetto XVI come Marcello Pere non solo che è una società in cui tutto è concesso in nome di una libertà che però talvolta è una libertà che non tiene in considerazione l'etica quindi il punto che ci dobbiamo interrogare per i prossimi anni è esattamente questo è un punto di vista più che politico culturale temo che non sia non ne veremo molto a capo sono 40 anni che diciamo che la droga fa male è servito a niente assolutamente a niente ma non è mai detto ci dobbiamo fermare ci dobbiamo fermare no poi adesso sorridiamo ma in realtà perché è una battuta evidentemente ma ci sono anche drammi dietro e non dovremmo mai dimenticarceli grazie per essere stati con noi questa mattina ci fermiamo andiamo in pubblicità subito dopo ripartiamo da Parigi parliamo sempre di ragazzi ma questa volta ragazzi che vengono arrestati perché salgono sulle barricate e protestano vi aspetto subito dopo 9.21 ben ritrovati la seconda parte di Omnibus la dedichiamo a cercare di capire se è possibile ovviamente quello che sta succedendo in Francia anche questa notte ci sono state manifestazioni ci sono stati atti di devastazione atti vandalici in Francia le agenzie adesso stavo controllando le dicono che ci sono stati altri 719 arresti che si vanno a sommare ai mille rotti dei giorni scorsi ebbene la cosa che fa impressione è che l'età media delle persone che sono state arrestate è di 17 anni quindi stiamo parlando di ragazzini ragazzini che si sono ribellati che hanno voluto protestare per la morte sostanzialmente di un loro coetaneo lo sapete questo Nael che era la guida di un'auto non aveva la patente insomma non era sicuramente come si dice uno stinco di santo probabilmente ma certo non andava ucciso per questo sei giorni dopo la Francia si ritrova con il presidente Macron che ha dovuto annullare un viaggio che doveva fare in Germania per restare in patria si ritrova con un coprifuoco che non è stato proclamato ufficialmente ma che insomma ci va molto vicino perché come sapete bus e metro dopo le 21 non circolano più e ci sono delle limitazioni ad uscire e un appello fatto ai genitori appunto perché tengano a casa i figli i propri figli abbiamo in collegamento il ricercatore dell'ISPI Matteo Villa che ritrovo con piacere buongiorno Villa buongiorno voi mi scusi ma qui oggi mi hanno messo un'aria condizionata tremenda e il collega del Corriere della Sera Massimo Nava buongiorno Nava ben trovato buongiorno voi che ieri fra l'altro appunto scriveva proprio di questi temi per discuterne e io vorrei vorrei chiedervi diciamo fra un attimo arriviamo anche alla questione italiana perché oggi molti giornali accostano le notizie di quello che sta accadendo in Francia con quella che potrebbe essere una svolta italiana di una serie di rimpatri di persone che non avrebbero ho il diritto di restare sul territorio italiano e c'è un'intervista del sottosegretario all'interno Molteni sul giornale che di fatto appunto accomuna proprio le due questioni tant'è che l'apertura che oggi il giornale dedica è proprio nella prima pagina la Francia paura ecco il piano italiano quindi vedete c'è un legame diretto la Francia lo dimostra è fallito il modello delle porte aperte dice Nicola Molteni ecco è proprio questa la questione delle porte aperte per cui l'integrazione è saltata oppure come invece sostiene qualcuno non c'entra niente e invece c'entra il comportamento della polizia uno dei più repressivi in Europa a quello francese al contrario per esempio di quello che possiamo vedere ma guarda la domanda è a me o a collega a entrambi quindi inizia se posso si certo a me pare un collegamento devo dire abbastanza ignobile per usare un aggettivo pesante ma che non ne trovo di meglio perché questo discorso con l'immigrazione non c'entra proprio niente questi ragazzi sono francesi sono cittadini francesi a tutti gli effetti sono nipoti pronipoti della grande immigrazione francese degli anni 50-60 seguiti alla guerra d'Algeria e ovviamente alla decolonizzazione dell'Africa tant'è vero che tanti campioni dello sport hanno origini ganesi marocchine e di Burkina e di Burkina e c'è quant'altro quindi seconda o terza generazione diciamo che questo collegamento con l'immigrazione proprio non c'entra niente purtroppo invece c'entra il discorso di un rapporto complicato e ambiguo con le forze dell'ordine che naturalmente fanno da un lato fanno il loro dovere sono anche spinte a usare la mano dura dopo che la Francia è stata scossa negli anni scorsi da tremendi attentati e l'emergenza attentati di matrice soprattutto radicale islamica è tuttora presente e questo naturalmente crea tensione in quei territori della Repubblica che sono o dominio di bande di microcriminalità comunque di marginalità sociale e negli ultimi tempi di deriva islamica questo è il dramma francese del momento ma parliamo sempre di cittadini francesi di serie A e di serie B Matteo Villa quindi tutto quello che anche ci è stato raccontato sulle banlieue no ha un fondamento comunque oppure no ma sulle banlieue certamente sì attenzione non vuol dire però che significhi che sono immigrati di prima generazione cioè appena arrivati anzi non sembra allora intanto è ovvio che sappiamo da quello che ci ha detto il governo francese dell'Eliseo che appunto l'età media è 17 anni ma queste persone a parte che l'età media è 17 anni vuol dire quasi sicuramente non arrivata adesso perché l'età media di chi arriva in Francia adesso è sui 25 anni sono persone un pochino più grandi che quando sbarcano ma in ogni caso sono persone che quasi sicuramente appunto sono in Francia da tempo sono nate in Francia vedremo se uscirà la composizione demografica e molto probabilmente vedremo anche questo riflettono la composizione delle banlieue cioè ovviamente una maggioranza diciamo una maggiore penetrazione di stranieri perché in periferia ci sono le persone che stanno peggio che sono un po' più povere e le persone straniere di seconda e terza generazione che non sono riuscite a spostarsi verso i centri che non sono straniere ribadisco ma riflettono la composizione demografica delle banlieue francesi non soltanto Parigi ma abbiamo visto Lione Marsiglia tutte queste persone sembrano arrivare dalle periferie e tutte queste persone diversamente da quello che ci ricorderemo forse era il movimento di gile gialli nel 2018 prevalentemente bianco comunque rifletteva una Francia comunque di ceto medio e un pochino più diciamo della provincia francese più normale diciamo più lontana dei centri cittadini grandi tranne Parigi in questo caso invece sono le banlieue quindi ovviamente riflettono la composizione demografica delle banlieue e questo certo è un fallimento dell'integrazione di queste persone nello stato francese ma non perché sono emigrate due giorni fa o tre anni fa perché in Francia sono rimasti sono perpetuate le disuguaglianze che c'erano negli anni 60 e 70 che infrontavano i loro nonni e loro non riescono più non vogliono più sopportarle quindi ogni motivo è buono per scatenare proteste molto forti duente voglio dire noi tutti ricordiamo per le ali estreme dell'escrivimento e per cavalcarlo ricordiamo la rivolta che ci fu nel 2005 per cui per quasi sì e mi piacerebbe capire la differenza ecco c'è una grande differenza con la rivolta del 2005 proprio perché la rivolta del 2005 io tra l'altro l'ho seguita direttamente sul campo ma avevo seguito anche quelle degli anni 80 avevano come dire un connotato sostanzialmente sociologico e politico o metapolitico ossia era la banlieue che si ribellava a una condizione di inferiorità e di discriminazione territoriale e sociale e chiedeva un avanzamento di tipo proprio sociale ed economico e culturale ossia la discriminazione positiva nei luoghi di lavoro nelle università eccetera questo aveva anche innescato un fattore positivo ossia dei piani del governo peraltro molto costosi e molto incisivi per migliorare la condizione urbanistica e strutturale delle banlieue per esempio sul trasporto pubblico e sulle abitazioni la rivolta di oggi non a caso sono se parliamo di minorenni addirittura è il segno di una marginalità di popolazioni di gruppi sociali che non hanno più nulla da perdere infatti giustamente si faceva notare prima il fatto che è totalmente diversa dalla rivolta dei gile gialli o addirittura dalla battaglia contro la riforma delle pensioni addirittura parliamo di come dire ambiti di protesta che nemmeno si mescolano nel senso che quella delle gile gialli e quella delle pensioni sono rivolte di garantiti che temono di perdere i loro diritti questa è una rivolta di gente che diritti non ne ha e che quindi scusa però Massimo Nava scusa un attimo il dato fondamentale unificante direi che fa da dinamite della cosa sono i social ovviamente TikTok che sono gli strumenti non c'è dubbio però la domanda quindi è questa quindi tutte quelle famose politiche appunto di cui tu parlavi che avrebbero dovuto servire a integrare e a favorire una crescita sociale di queste persone sono sostanzialmente fallita te lo chiedo perché ma non è fallita la politica in sé è fallita la conseguenza e la riflessione culturale della Francia cioè la Francia che rimane divisa nella testa è chiaro che quando per anni si sono sparsi a piene mani teorie più o meno razziste o valutamente razziste penso a Zemmour penso a Wellbeck e a tanti intellettuali che parlavano di sostituzione etnica che parlavano di sottomissione di islamizzazione della Francia è chiaro che queste periferie sono state stigmatizzate e ghettizzate ma dal punto di vista proprio culturale cioè la Francia bianca cristiana sconvolta peraltro anche da attentati perché se è vero che non tutti quelli delle baldieu sono potenziali terroristi è anche vero che qui pochi terroristi vengono dalle baldieu allora però ecco volevo leggerti una cosa il cortocircuito è totale volevo leggere il ministro l'ex primo ministro francese Manuel Valls di sinistra diciamo insomma comunque sicuramente non un conservatore oggi intervistato proprio sul Corriere della Sera quindi il tuo giornale dice a un certo punto parlando delle baldieu dice parte di loro cioè di quelli che le vivono le abitano di queste persone dice non si sono integrati non si sono assimilati non amano la Francia le sue istituzioni i suoi simboli è un fatto non so come dirlo altrimenti sì chiaramente l'analisi è corretta ma manca il punto di partenza ossia che questa non è una scelta delle persone che vivono nelle baldieu è la conseguenza di un atteggiamento della maggioranza dei francesi cioè se un francese su tre vota Marine Le Pen e vota per l'estrema destra e alcuni settori dell'estrema sinistra sono come dire tendenti a privilegiare ovviamente i garantiti ossia i lavoratori i sindacati i protagonisti di grandi scioperi quindi comunque il miglioramento o la difesa di diritti acquisiti è evidente che il modello francese di integrazione di laicità e di uguaglianza soprattutto scritta nella Costituzione è fallito quindi abbiamo una Francia dei garantiti che è di uno stato sociale che tuttora funziona che dispensa servizi che eroga anche diciamo diritti sociali importanti e poi però c'è una Francia che non esiste e non esiste in questa politica e soprattutto non esiste nella testa dei francesi perché ripeto la frattura è soprattutto culturale più che economica se girate per le periferie non è che mancano gli asili o le scuole o addirittura i giardini pubblici cioè certo non sono abitazioni di lusso per carità ma rispetto a tante periferie penso anche a quelle italiane non è che si vive valissimo dal punto di vista come dire fisicamente urbanistico anche questi ragazzi che guidavano senza patente guidavano una macchina quindi non è che non è che parliamo di come dire di dimensioni di povertà il problema è la teoria degli anni 60 americana quando ci furono le grandi rivolte dei ghetti degli afroamericani era che l'unica soluzione per il ghetto è abolire il ghetto non è migliorando il ghetto che le cose si risolvano certo eliminando il ghetto allora Massimo Nava veniamo a noi noi da noi le banlieue l'equivalente di una banlieue non esiste in Italia fortunatamente ci sono quartieri esistono i casi tipo Prima Valle però ci sono quartieri un po' più o meno gentrificati un disagio sociale molto profondo però non è non è la stessa cosa insomma delle banlieue quindi fatta diciamo così questa distinzione noi corriamo gli stessi rischi di quello che sta accadendo in Francia di quello che accade poi appunto a varie riprese in Francia leggevo sempre in alcune interviste i francesi reagiscono perché sono reagiscono alle ingiustizie per esempio della polizia in questo caso beh non possiamo certo dire che da noi non ce ne siano però da noi non si è mai vista qualcosa di simile da noi non c'è questa divisione estrema tra gli esclusi e i garantiti malgrado il fatto che ovviamente anche da noi ci siano i garantiti lo vediamo appunto abbiamo soprattutto una difesa delle pensioni appunto dell'esistenza dell'esistente piuttosto che un certo tentativo di far ripartire i giovani eppure questo diciamo lo sbocco di proteste che troviamo in Italia non è uno sbocco di proteste violente che trovavo affascinante un'altra cosa scritta oggi sul Corriere sempre da scusate da Aldo Cazzullo che diceva una cosa secondo me abbastanza vera e realistica sul caso francese ovvero il presidente non è un parafulmine non ha sostanzialmente quello che può avere un primo ministro da noi noi giochiamo sul consenso e poi a un certo punto facciamo spesso governi di ampie maggioranze e ovviamente il nostro governo come tutti i sistemi parlamentari può cadere nel momento in cui la maggioranza salta il presidente invece non può proprio cadere eletto l'anno scorso di fatto proteste non proteste fino al 2028 sarà lì il 27 sarà lì questo è interessante perché probabilmente tra le tante cose c'è anche una questione culturale la tendenza francese a arrivare a queste proteste un po' più violente del solito un pochino più forti ci sta però diceva Massimo Nava benissimo in questo caso non è una tendenza delle classi medie che tendono a protestare si ricordano la storia francese è una tendenza degli esclusi e il fatto che non esista uno sbocco politico una rappresentanza politica degli esclusi in Francia è chiarissimo neppure la sinistra neppure la sinistra estrema guarda di là in maniera sufficiente e questo fa sì che l'unica alternativa che ci sia è protestare ripeto ripetiamolo non è una protesta di poverissimi assolutamente è una protesta di persone che si sentono emarginate e che sono ai margini alla periferia nel grigiore urbano anziché verso i centri e loro sanno che la loro vita avendo visto i loro genitori non è più rosa non è più verso un futuro migliore ma è restare ha fatto benissimo Villa sottolineare questo aspetto che poi è una critica diciamo così al presidenzialismo e a come viene applicato questo presidenzialismo Dava guarda la teoria un po' del parafumine evocata da Cazzullo è un po' una vecchia teoria in realtà che le cose sono profondamente cambiate ultimamente cioè il problema intanto Macron anche se è in sella non ha una maggioranza parlamentare quindi in realtà abbiamo una situazione totalmente inedita cioè di un presidente debolissimo in Parlamento e quindi nel Paese un presidente che per due volte ha sfidato al ballottaggio a Marine Le Pen e quindi si è trovato praticamente a essere eletto per default ma comunque con una esigua maggioranza non è stato certamente un voto di adesione e soprattutto questo credo la grande differenza con l'Italia è proprio la scarsa rappresentanza dei corpi intermedi della funzione del Parlamento quindi tutta la dialettica sociale anche la più violenta è tra la piazza e l'Eliseo e siccome i francesi hanno nella testa appunto scusate il cortocircuito verbale il taglio della testa ossia la rivoluzione e questo porta sempre questo antagonismo sociale persino violento anche nelle proteste sindacali come abbiamo visto con i gile gialli e con la rivolta delle pensioni e questa è la grande differenza italiana secondo me dove comunque le articolazioni sociali quando noi parliamo di semipresidenzialismo alla francese che tanti vorrebbero importare dovrebbero invece riflettere su questa contraddizione che esiste nella società francese noi abbiamo corpi intermedi abbiamo sindacati molto più forti abbiamo partiti articolati abbiamo un'articolazione anche regionale territoriale le autonomie locali che hanno un peso pesante forte importante che permettono di diluire il tutto non c'è dubbio e poi forse in Italia c'è anche una una certa rassegnazione è quello quello e quindi e quindi si preferisce magari dare consenso a ogni stagione a un partito diverso e insomma la piazza è un pochino più più addormentata però mi pare di capire che ultimamente si stia svegliando anche la piazza sì però in effetti è vero noi facciamo più facilmente cadere governi che teste il che forse è anche un Matteo Villa non è neanche così negativo no la previsione è di una insomma conclusione abbastanza rapida di questa protesta o dai segnali che hai il rischio è che si ripetano i fatti del 2005 l'ultima notte è stata più calma sì dicono un po' più calma però comunque 719 arresti quindi insomma per fortuna è stata calma ecco a mio parere la cosa interessante è proprio questa che questa è una protesta che si sta diffondendo soprattutto sui social nel senso come organizzazione e non ha una base organizzativa forte i gilet gialli erano diversi ma che erano fossero partiti un po' spontaneamente poi si era andata una base organizzativa relativamente lasca però abbastanza forte non si diceva ci troviamo lì in quel momento andiamo là invece in questo caso ci si organizza sui social si compare nelle piazze nelle vie secondo me è una bolla vediamo delle bolle violente di tanti giorni in questo momento tra l'altro imprevedibile che fossero essendo il quinto giorno così rapidamente che però possono ridiscendere molto rapidamente quindi è difficile fare una previsione sui prossimi giorni ma secondo me è una bolla di quelle che si sgonfierà e però ci dice tantissimo dello stato francese anche se tra due o tre giorni non ci sarà nessuno in piazza si dice tantissimi come può ribollire tutto rapidamente immediatamente prendere fuoco di nuovo signori vi ringrazio probabilmente succederà riprenderà a giugno dell'anno prossimo nell'anniversario della morte se mi permetti un'osservazione c'è una cosa secondo me molto grottesca ossia la raccomandazione di Macron alle famiglie di retenere i ragazzi a casa lo dicevamo prima tenere i ragazzi a casa quando guidano senza patente a 17 anni mi sembra veramente un'impresa infatti forse Macron non ha avuto figli adolescenti no non ha avuto figli in generale appunto sì nel senso non sono neanche arrivati all'età dell'adolescenza ci dobbiamo fermare grazie grazie comunque per essere stati con me questa mattina grazie a voi e grazie per averci seguito e vi lascio ai programmi della rete buona domenica